ben ritrovati nel nostro spazio di approfondimento si avvicina il natale potremmo parlare di tante cose buone insomma tutte le cose che si collegano al natale e ne parleremo anche ovviamente ma vogliamo parlare anche di cose belle e parliamo di musica parliamo di musica con Alessandro Bianchi che accanto a me che è benvenuto buongiorno buongiorno agli ascoltatori e telespettatori il nostro invito che è uno speaker radiofonico avete sentito già dall'aggancio si è capito insomma già mi sono incestugliato, ingarbugliato, ma ad ogni modo questo è naturale e speaker radiofonico profondo conoscitore della musica in generale e forse con un occhio di riguardo alla realtà torinese esatto mi piace molto quindi insomma partiamo così un po' per cercare di far capire anche magari al nostro pubblico che è più eterogene e magari non così approfondito della musica in generale qual è la situazione a Torino in questi anni? la situazione è Florida in realtà abbiamo un sacco di band un sacco di gruppi che stanno suonando e stanno facendo stanno portando il nome di Torino in giro per l'Italia è ovvio che con la polverizzazione del mercato discografico ogni tanto ci sono delle difficoltà di approccio ai nuovi mercati però comunque ce la stanno mettendo tutte i nomi sono tanti certo ma che cosa vuol dire Florida? vi immagino che vuol dire che ci sono tanti gruppi ma immagino anche che ci sia tutto un discorso di ricerca artistica guarda Torino è sempre stata una piazza molto molto interessante da sempre dagli anni 80 non so se ti ricordi Righiera sì certo certo per cui un gruppo importante che spopolò in tutto il mondo da allora le scene sono state tante diverse abbiamo avuto una scena dance molto importante abbiamo avuto una scena indie altrettanto importante indie che sarebbe? indipendente indipendente però poi è riuscita a sbarcare in un mercato decisamente più mainstream penso di Subsonica hanno cominciato come gruppo quasi di nicchia che faceva un genere completamente diverso da quello che viaggiava per la maggiore in Italia negli anni 90 e sono esplosi all'inizio degli anni 2000 grazie a dischi che hanno venduto moltissime copie sicuramente poi l'avvento di internet l'esistenza una volta di Napster e poi di altri canali per il peer to peer quindi di scambio di canzoni sul web ovviamente hanno inciso in maniera molto profonda su quello che è stato il mercato discografico hai parlato quindi di sperimentazione hai portato il caso ad esempio dei Subsonica che cosa significa? cioè ci sono dei gruppi che nascono in modo indipendente che cosa vuol dire? quali sono i... i canali sono leggermente diversi da quelli mainstream per cui abbiamo un gruppo che comincia a provare nella propria sala prove e poi comincia a suonare dal vivo facendo delle cose proprie facendo delle cose assolutamente proprie che non ammiccano al mercato ecco facendo delle cose proprie comincia ad approcciarsi al nuovo pubblico e il pubblico attraverso in maniera molto virale attraverso il passaparola comincia a sostenere quella band nel momento in cui raggiungi dei grandi numeri allora a quel punto una volta la casa discografica ti approcciava e cercava di lanciarti ti diceva guarda visto che tu coinvolgi tante persone vieni a suonare per la mia casa discografica ovviamente è una questione di business, è una questione di mercato oggi non è più così in realtà le regole di accesso alle case discografica sono cambiate una casa discografica non ha più l'importanza incredibile che poteva avere una volta per cui attraverso magari altri canali di diffusione che possono essere appunto i social network piuttosto che i YouTube piuttosto che altri spazi quindi completamente diversi da quelli che erano gli spazi media di una volta si approcciano appunto a nuovi pubblici a quel punto la discografia in qualche modo può cercare di intercettare l'interesse che vai a generare sul tuo pubblico e vedere se vale la pena eventualmente investire su di te allora io faccio il giornalista cattivo e dico quindi le case discografiche rischiano sempre meno? assolutamente sì non rischiano più niente però bisogna anche ammetterlo le case discografiche non hanno più la possibilità di investimento che potevano avere fino agli anni 70 80 90 cioè dal punto di vista economico? assolutamente questo perché? questo dipende fortissimamente da internet da una scherza volontà di investimento da scelte sbagliate che sono state fatte negli anni quindi arriviamo appunto al mercato torinese dicevamo mercato meglio la scena meglio è piuttosto Florida ci sono locali adesso senza fare nomi? purtroppo è un grande problema i locali noi abbiamo tanti locali piccoli da 50 a 100 persone ne abbiamo uno medio che raggiunge quasi una capienza delle mille unità non abbiamo più locali che ti consentano di fare il salto quindi o vai a suonare nel locale da mille persone oppure devi arrivare direttamente a quello da 6.000 a 7.000 penso a spazi estivi piuttosto che a un grosso palazzetto dello sport e quindi mancano le situazioni intermedie mancano le strutture intermedie totalmente per cui c'è una buona scena di club non abbiamo tanti circolari locali però ce la giochiamo con le altre città grandi sul territorio italiano però le dimensioni sono piuttosto contenute e ci sono luoghi più ambiti sempre? assolutamente sì ci sono sempre due o tre locali in cui il musicista mira ad andare a suonare e come funziona anche in quel caso? adesso sono domande tutte molte banali ma insomma credo sia carino anche farlo conoscere funziona così diciamo che l'approccio è il medesimo che può esserci sempre stato per cui una band si approccia al proprietario del locale va con il suo disco perché ormai in tanti sono riusciti a pubblicare o per piccolissime etichette oppure in maniera indipendente degli album ma indipendente vuol dire che se lo sono fatti loro? se lo sono fatti loro e magari hanno trovato una piccola distribuzione locale questo è più o meno è sempre successo se non che è molto più facile oggi fare un disco in casa ormai è possibile riuscire a raggiungere degli standard qualitativi piuttosto alti una volta invece avevi appunto bisogno del disco grafico che ti prendeva ti portava in una sala di incisione grande e ti permetteva di fare un disco con una spesa ovviamente importante certo e adesso dicevamo quindi vanno lì con il proprio disco? vanno col proprio disco e cercano di essere calendarizzati appunto nelle serate che il locale prepara nel corso dell'anno ecco in qualche modo hai già accennato il rapporto ormai differente con la musica attraverso internet assolutamente che cosa è cambiato insomma? ma tutto è un paradigma non sei affatto come dire più che troppo grande ma non sei neanche 15 anni esatto sono diversamente giovane diciamo così no ma no vabbè come me credo non è quello però quindi hai visto un po' di cambiamenti assolutamente assolutamente che cosa è successo? internet ha sparegliato le carte sul tavolo quindi come ti dicevo prima le regole d'accesso nel mercato discografico sono completamente cambiate oggi l'artista sebbene sia più libero da un punto di vista artistico e quindi più libero di fare quello che realmente vuole senza dover soggiacere delle regole imposte da qualcun altro può creare in realtà quindi può creare però difficilmente riesce ad accedere a quello che è il mercato quindi riuscire a vendere riuscire a guadagnare di musica può farlo attraverso i live più è bravo più avrà la possibilità di suonare live in tante situazioni differenti quindi in realtà spesso magari possiamo a parte che se c'è qualche gruppo tolinese possiamo citarlo non c'è nessun problema assolutamente e mi chiedo quindi in realtà alcuni gruppi magari preferiscono anche mettere la propria musica a disposizione gratuitamente? allora questo accade sicuramente però dipende sempre dalla strategia che un gruppo ha ma io posso anche pensare di dare gratuitamente il mio pezzo io che non so nessuno per una grossa azienda a livello globale al fine di spingere moltissimo il mio pezzo sappiamo che successe negli anni 90 alcuni artisti sono riusciti a risorgere proprio grazie al pezzo che era stato utilizzato per uno spot ciò nonostante bisogna ammetterlo è tutto molto difficile proprio perché c'è una polverizzazione del mercato è frammentato in maniera diseguale invece proporlo al pubblico in modo gratuito attraverso youtube ad esempio attraverso youtube le possibilità di digital store ti consentono sempre di fare degli ascolti gratuiti ci sono delle piattaforme su internet dove puoi ascoltare direttamente l'album ed eventualmente scegliere se comprarlo in una seconda battuta quindi l'idea è quella all'inizio di promuoversi il più possibile se battuta attraverso il web e poi cercare di fare in modo che la gente venga sentita funziona se non che a un certo punto c'è un cortocircuito perché la gente comunque ti ascolta e non è così automatico che compri il tuo disco certo quindi può venire a scegliere di venerti ad ascoltare dal vivo però vendere dischi diciamo che in questo momento è estremamente difficile ma ce lo dice proprio il mercato una volta riuscivi a conquistare un disco d'oro vendendo almeno 200.000 copie e oggi se ne vendi 10.000 ti porti a casa un disco d'oro sì sì avevo sentito un'intervista a qualche cantante anni 60 magari con i storici italiani e una volta sai riprodurre la musica era impossibile sì potevi farti la cassettina ma ormai con i formati digitali sebbene la qualità non sia all'altezza di un originale ti consente di portarti la tua musica dappertutto e di ascoltarla quando vuoi certo e collaborazioni importanti anche con Neja e Paolo Brosio che è un musicista sì sono due situazioni completamente differenti molto diverse appunto come tipologie artistiche anche divertente beh io mi sono pagato l'università suonando e beh quindi insomma è una cosa bella è andata bene è andata bene sono stato molto fortunato ho suonato per tanti anni con Caterina Farsino la figlia di purtroppo scomparsa di Gipo e poi qualcun altro ha avuto così un po' la sfrontatezza il coraggio di chiamarmi insomma io non sono un grande musicista però mi diverto moltissimo e posso essere un discreto accompagnatore per cui c'è gente che ancora si fida di me e mi chiama per fare qualcosa Neja la ricordiamo tutti come star della musica dance insieme abbiamo un progetto leggermente più contenuto più acustico estremamente divertente Paolo invece è un grande cantautore ha da poco fatto uscire il suo secondo album che si intitola maneggiare con cura ed è un nome secondo me che si può far strada ha un progetto molto interessante mi piace comunque aver aderito al suo progetto ecco allora siamo in chiusura ma diamo allo visto che a casa ha capito insomma che te ne intendi allora cosa cosa faccio nelle vacanze di Natale allora ci sono tanti concerti che si possono andare a sentire allora io mi sono fatto una lista di quello che potrebbe esserci da qui al 2016 i nomi sono più o meno sempre gli stessi per cui ci sono nomi molto mainstream che vanno da Silvestri, De Gregori, Lanannini, Mangoni, Biondi, Marrakesh, Negrita e Negramaro tutti qua a Torino tutti qua a Torino, tutti nei prossimi mesi però ci sono alcune situazioni più interessanti per esempio il 18 dicembre verranno a Torino l'Hiroshima Monamour ci saranno gli Scatlites che sono il gruppo di Don Dramond insomma stiamo parlando degli artefici della nascita del reg loro vengono dalla Giamaica e sono stati insieme a Bob Marley coloro che hanno portato avanti il Rocksteady e lo Ska che sono questi generi musicali tutti in levare molto interessanti e molto divertenti verrà qua a Torino il 12 febbraio siamo The Tallest Man on the Earth che è un'artista svedese assomiglia molto a Bob Dylan quindi siamo area cantautorale il 29 gennaio se non mi sbaglio al Folk Club verrà Eric Anderson un grande della musica cantautorale americana che ha suonato tra gli altri con Townsville Zant e Johnny Mitchell ci saranno in situazioni più piccole un gruppo decisamente più nicchioso si chiamano i Sex Orgasm loro sono una band che fa Garage quindi una nicchia del Rock insomma per chi ha seguito la scena gli anni 60 diversamente giovani come me che amano un certo tipo di musica sanno che il Garage, il Puzzley Underground e il Power Pop sono tre generi dove si può sempre trovare musica di grandissima qualità poi ci saranno i Touring Breaks io li amo particolarmente perché andai a seguire il loro primo tour italiano nel 2000 quindi stiamo parlando di diversi anni fa che saranno il 15 aprile sempre a Hiroshima quindi non abbiamo detto soltanto le vacanze di Natale abbiamo detto veramente tutto bene allora grazie ancora ad Alessandro Bianchi per questa chiamata della scena musicale tolenese e grazie a voi per averci seguito speriamo di avervi dato qualche consiglio a presto